Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un quindicenne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il padre, un quarantenne, durante una lite avvenuta a Siliqua, nel sud della Sardegna. Il giovane è stato trasferito al carcere minorile di Quartucciu, mentre il padre è stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L'uomo è stato colpito alla gola con un coltello, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Iglesias, guidati dal comandante Luigi di Costanzo, la lite tra padre e figlio è scoppiata mentre i due si trovavano in auto. Durante il confronto, il ragazzo ha afferrato un coltello e ha ferito il padre, per poi fuggire a piedi. L'uomo, ferito, è riuscito a raggiungere il paese, dove è stato soccorso e successivamente portato all'ospedale. Nel frattempo, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il giovane poco dopo, mentre vagava per le strade di Siliqua.